5 mesi di reclusione, pena sospesa e 20.000 euro di risarcimento è la pena decisa dal Tribunale di Vicenza a carico di una donna di 40 anni accusata di sottrazione internazionale di minorenne. Nel 2013 lei di origine francese dopo la separazione dal coniuge aveva portato la figlia, che allora aveva 5 anni, a vivere con lei in Francia provocando la reazione dell'ex marito. La giustizia italiana e poi quella francese sei mesi dopo intimarono alla donna di tornare in Italia e contemporaneamente scattò il processo concluso nelle scorse ore. La donna ha già annunciato attraverso il suo legale che farà ricorso.